la fortuna è che i pizzaioli non si nasce ma si diventa quindi con lo studio l'esperienza e la pratica si può divenire ottimi professionisti fare la pizza però è anche un'arte non basta saper impastare acqua e farina ma ci vogliono tecnica fantasia e destro ingredienti importantissimi al pari di mozzarella o pomodoro come ci insegnano Iuri e Daniele i stancabili pizzaioli di Magna Roma la pizzeria in via Settevalli 426 a Perugia da 30 anni nel settore della panificazione alla pizzeria Magna Roma si viene sempre accolti con un sorriso lo stesso che rimane impresso sul viso dei clienti quando assaggiano le prelibatezze che vengono sformate in questo locale a partire dalla pizza romana che nasce da una selezione accurata di farine l'impasto viene realizzato attraverso l'elaborazione di una biga che abbatte notevolmente il lievito al suo interno questa viene fatta maturare dalle 48 alle 72 ore con un attento riguardo all'idratazione ottenendo così una pizza leggera digeribile croccante la spianatura è fatta rigorosamente a mano e per le farciture si utilizzano prodotti di prima scelta con un'attenzione costante alle novità non solo pizza però alla Magna Roma vanno forte anche i supplì alla matriciana cacio e pepe o classici le patatine o i succulenti taglieri di salumi anche se il cavallo di battaglia senza dubbio il calzone fritto ripieno di salumi e mozzarella fior di latte dopo Magna Roma è aperta dal martedì al venerdì dalle 12 alle 15 e dalle 17 alle 23 il sabato dalle 12 alle 15 e dalle 17 a mezzanotte e la domenica dalle 17 alle 23 effetto a servizio di consegna a domicilio con l'app It in Time Grazie a tutti! Grazie a tutti